La salute passa anche per il cibo, la nutrizione ha una funzione terapeutica e cambia con gli stili di vita quando cambiano. Vedi emergenza Covid e immigrazioni, anzi è centrale la nutrizione nel mantenimento della salute fisica ma anche dell'ecosistema in cui viviamo. Il progetto prevede 20 seminari in provincia di Pescara allo scopo di insegnare nuovi comportamenti e stili di vita e insieme indicare figure di riferimento ormai essenziali quali il naturopata che è a fianco del medico, il dietologo, il consolo a fianco dello psicologo, il fitoterapeuta, il nutrizionista e addirittura l'etnomedico. Cosa ci proponiamo in definitiva? Di preparare almeno 20 volontari nel territorio della provincia di Pescara che siano poi in grado di informare i cittadini, siano in grado di essere portatori della nostra proposta. Quali saranno le tappe? 20? Le tappe sono 20, andremo su tutta la provincia di Pescara quindi portando proprio a conoscenza l'importanza della nutrizione da un punto di vista di terapia, quindi alimento come farmaco e soprattutto la conoscenza della natura utilizzando la natura come farmacoterapia a fianco alle terapie tradizionali. Quello che vogliamo mettere in evidenza è il rapporto che c'è tra le piante e la vita dell'uomo, la vita nel senso della salute, del benessere dell'uomo. In particolare per quelli che sono gli interessi di ricerca e di studio che seguiamo, il ruolo delle piante sia che entrano nell'alimentazione e quindi servono per il sostentamento, ma anche per le piante medicinali che servono per ristabilire e conservare lo stato di salute. Riscontriamo diverse problematiche che vanno dai minori agli anziani ai disabili. La fondazione di ricerca oncologica potrebbe appunto anche con questo progetto andare a toccare determinate tematiche e in determinati casi alleggerire quelle che sono le pesantezze della malattia in generale. Iniziamo a riconoscere le piante e la stessa cosa vedrete che diventa automatica anche in quello che mangiamo. In fondo è una consapevolezza, l'obiettivo può essere quello di arrivare a una dieta, a un acquisto sempre più consapevole, ma è anche una consapevolezza che nasce dalla conoscenza dell'ambiente che c'è intorno.